Panini tipo ciabattina Perfetti da farcire In una ciotola 600 g di farina zero 350 ml di acqua tiepida Una bustina di lievito di birra secco Un cucchiaino di zucchero Tre cucchiai di olio di semi Potete usare anche olio d'oliva Mescolare con un cucchiaio Alla fine un cucchiaino e mezzo di sale Impastare un po' in della ciotola Impastare per un minuto Metterlo in una ciotola Unto con un po' di olio Chiudete col coperchio Far lievitare fino al raddoppio Un'ora o due Vi consegniamo di farlo lievitare Con la luce accesa nel forno Ora dividete l'impasto in tanti panetti Circa 110 g Ogni panetto Ora potete fare delle pieghe Formare i panini Ora mettetelo in una teglia da forno Ricoperta Coprite con un pano E lasciate lievitare per 15 minuti Fare i ditali con un'alametta Bagnarli con l'acqua con un penello In forno a 200 gradi per 30 minuti Bagnarli con un'amica Grazie a tutti.